In occasione della festa del patrono, a Sostampa l'Associazione dei giornalisti bellunesi ha organizzato la propria assemblea. Tanti sono stati temi affrontati, in primis i tagli all'editoria, tagli che se verranno confermati così come sono stati concepiti, rischiano di dare un brutto colpo a tutto il mondo del giornalismo, soprattutto alle piccole testate. Nonostante le problematiche, l'Associazione ha ritrovato vitalità. A Sostampa Belluno in questi ultimi due anni ha registrato un aumento di tesserati e questo non può che farci piacere. È un segno di vitalità importante per tutto il giornalismo bellunese. Anche quest'anno la categoria è impegnata nei corsi di aggiornamento, alcuni in provincia. Per il 2019 abbiamo messo in cantiere alcune iniziative di formazione ma che hanno anche valore culturale. La prima in ordine di tempo è fissata per il 26 di febbraio in Sala Freschi a Palazzo Piloni, sede dell'amministrazione provinciale. Parleremo del lupo, dell'orso e dei grandi predatori, un tema d'attualità nella montagna bellunese ma anche in tutta la montagna veneta. Per il 4 maggio un appuntamento che riguarda il mondo della cultura e il mondo del giornalismo. focus su Dino Buzzati a 70 anni dal Giro d'Italia che Dino Buzzati seguì come inviato speciale per il Corriere della Sera. Ne parleremo proprio a Feltre in collaborazione con l'Associazione Internazionale Dino Buzzati, con la dottoressa Patrizia Dallarosa e con l'inviato speciale del Giro d'Italia 2019 Marco Bonarrigo. Ha fatto seguito all'Assemblea la messa nella cappella del centro Giovanni XXIII. Il Vescovo ha attualizzato la figura di San Francesco di Sal. È vissuto in quel periodo tra il 1500 e il 1600 a Ginevra, quindi in una situazione conflittuale al massimo. La sua è stata un'amabilità capace di esprimere in modo fresco, nuovo e promettente la verità. Non una verità facile, ma una verità tradotta in uno stile di vita. E lui avvicinando le persone ha mostrato dove arriva la verità, all'incontro vero con le persone.